Autorità, rappresentanti delle istituzioni e del sistema economico finanziario, signore e signori, buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla presentazione del rapporto annuale sull'economia della Liguria. Ringrazio per la disponibilità a fornire il loro qualificato contributo ai lavori di questo pomeriggio, il professor Alberto Quagli, capo del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Genova e il professor Luca Sabatini, city data manager del Comune di Genova. Ringrazio per la sua presenza Alessandra Perazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia e una presenza questa che testimonia l'attenzione e la considerazione dei vertici dell'istituto nei confronti delle realtà locali. Negli ultimi anni è diventato veramente più ardo, più complesso parlare di congiuntura economica, questo perché a causa di eventi imprevisti, direi di rilevanza epocale, si sono praticamente succedute fasi economiche contrastanti con impatti settoriali anche diversificati. Dopo la marcata contrazione del 2020 legata alla crisi pandemica, il 2021 è stato l'anno della ripresa, una ripresa inizialmente molto robusta che poi ha frenato nei mesi autunnali a causa dei rincari dell'energia che già si sono manifestati in quel periodo e anche a causa delle difficoltà di approvvigionamento di alcuni input intermedi legati alla rapidità della ripresa della domanda. Nel 2022 l'economia della Liguria ha continuato a crescere, l'ha fatto in misura rallentata rispetto al 2021 e anche differenziata per settore, però è continuato ad espandersi l'economia nonostante le difficoltà connesse alle conseguenze del conflitto in Ucraina. Quali sono state queste conseguenze? Si è trattato soprattutto di conseguenze in termini di minore disponibilità e anche di rincaro dei prezzi degli input produttivi, in particolare i beni energetici e anche di rincaro delle materie prime alimentari. Nel derivato un generalizzato aumento dei costi alla produzione e al consumo. Dal lato dei costi alla produzione va detto che le imprese Liguri sono riuscite in qualche modo a fronteggiare questa situazione traslando parte di questi costi sui prezzi finali di vendita. Non è un caso infatti che nel 2022 la redditività delle imprese Liguri sia rimasta positiva, anzi è aumentato il numero di quelle che hanno chiuso inutile. Molto forte è stato l'impatto sull'inflazione al consumo. L'inflazione al consumo ha raggiunto livelli particolarmente elevati, ha toccato la sua punta massima a ottobre, ma a fine dicembre era dell'ordine del 13,6%, quindi due punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Come vedremo più in dettaglio questo scostamento non è legato a un differente andamento dei prezzi, quanto piuttosto al peso che qui in Liguria, nel paniere di consumo della Liguria, hanno le spese per l'abitazione e per le utenze che chiaramente hanno incluso i costi dell'energia e del gas che nel 2022 si sono praticamente raddoppiati. Visto proprio la rilevanza del tema dell'inflazione, l'inflazione non si vedeva su questi livelli da tanto tempo, ecco che con noi oggi abbiamo sia il professor Quagli che il professor Sabatini che nelle loro relazioni si soffermeranno su quelli che sono gli effetti dell'inflazione sulle scelte e sui comportamenti delle famiglie e delle imprese. Ora il rapporto che adesso vi presentiamo come ogni anno tiene conto di dati e informazioni che abbiamo raccolto presso un campione di 200 imprese Liguri. Ringrazio i referenti di queste imprese che con grande anticipo rispetto all'uscita delle statistiche territoriali ci hanno fornito i dati, ma ringrazio tutti gli operatori, banche, associazioni di categoria, anche enti locali che hanno condiviso con noi la conoscenza e il tessuto economico locale, confronto molto importante per una più corretta interpretazione dei dati. Allora dicevo prima che l'economia di questo territorio al pari di quella nazionale ha lo scorso anno, nel 2022, mostrato una adeguata, una buona capacità di resistenza e di reazione, riuscendo a conseguire, nonostante tutte le difficoltà legate alle conseguenze della guerra, un incremento che noi stidiamo dell'ordine del 3,7%, che è poi analogo a quello osservato a livello nazionale. Il quadro settoriale è molto articolato, vi verrà illustrato in dettaglio dai colleghi della divisione Aretto, Davide Revelli e Luigi Gazzano, che sono rispettivamente il titolare e sostituto della divisione. Io qui mi voglio limitare semplicemente a richiamare qualche andamento più significativo. Innanzitutto voglio dire che questa crescita è stata sostenuta quest'anno da un lato nel settore industriale, dal comparto delle costruzioni. Perché? Perché le costruzioni hanno continuato ad aumentare, sono aumentate le ore segnalate, le casse di Ili, del 18%, ma soprattutto le costruzioni hanno continuato a beneficiare di quella che è la prosecuzione dei lavori connessi alla realizzazione di importanti opere pubbliche e anche delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Sul fronte del terziario, che poi è il settore che caratterizza la nostra economia, il contributo più significativo è venuto dal turismo. Il turismo è cresciuto, i flussi sono cresciuti di oltre il 30%, sono stati trenati dalla componente di provenienza estera e in particolare poi è risultato anche da una nostra indagine che la spesa dei turisti stranieri che è cresciuta in maniera significativa del 75%. Quello che è importante sottolineare è che i pernottamenti, sia pur di poco, si sono collocati sul livello superiore a quello della fase prepandemica. Quindi da un lato costruzione e dall'altro turismo. Sicuramente il comparto che ha sofferto di più dei rincari, diciamo, degli input produttivi è stato quello dell'industria in senso stretto, dove si è avuto una sostanziale stabilità delle ore lavorate e un incremento, ma non particolarmente rilevante, dell'ordine del 3% del fatturato in termini reali. Un altro andamento che trovo molto incoraggiante anche per il futuro di questo territorio è quello legato al mercato del lavoro, perché l'occupazione ha continuato a crescere, sono stati ormai superati i livelli prepandemici, è cresciuta del 3,6%, in misura quindi superiore alla media nazionale del nord-ovest, ha riguardato l'occupazione dipendente e le forme del contratto a tempo indeterminato, in cui sono stati trasformati molti contratti a tempo determinato che erano stati stipulati negli anni precedenti. Ancora è in calo l'occupazione indipendente, se quindi ridotto il tasso di disoccupazione, soprattutto se è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale. Come vedremo, il miglioramento del mercato del lavoro ha in qualche modo sostenuto i consumi, perché sono aumentati il reddito destinato al consumo delle famiglie genovesi, però questi consumi sono stati poi frenati da un'inflazione che ha penalizzato soprattutto i scelti meno abbienti, perché sono quelli che sostengono esclusivamente spese per beni alimentari o anche per l'abitazione delle utenze, sono quelle spese che hanno registrato gli incrementi più significativi. Un ultimo dato che metta attenzione riguarda il mercato del credito. Qui nel mercato del credito si è osservato cosa? Un rallentamento dei prestiti alle famiglie. Questo rallentamento ha interessato in misura più significativa i mutui e questo lo vedremo in connessione con la dinamica dei tassi di interesse che sono stati aumentati. Ma nel settore produttivo abbiamo visto una vera e propria contrazione dei prestiti. Ora questo è un dato abbastanza importante, perché la contrazione dell'8,7% è una contrazione che però va un attimo qualificata, perché risente sicuramente di scelte l'indebitamento di taluni grandi operatori. Però quello che va messo in evidenza e che è al netto di questo effetto, questa flessione riflette l'indebolimento della domanda di finanziamenti per investimenti. Ricordo che nel settore dell'industria in senso stretto abbiamo avuto una contrazione degli investimenti del 14% e riflette anche quelle che sono condizioni di offerta leggermente più restrittive, sia in termini di quantità offerte che di spread medi applicati. La politica di normalizzazione avviata dalla BCA in realtà ha comportato un rialzo significativo dei tassi di interesse, questo sia per le imprese che per le famiglie. Per le imprese il rialzo più significativo ha riguardato le operazioni di finanziamento a più lungo termine, quelle per finalità di investimento, per le famiglie ha interessato in maniera più incissiva i mutui. Ovviamente il rialzo dei tassi di interesse impatta anche sul costo del debito preesistente. Va detto però che un'analisi che noi abbiamo condotto è evidenziato come la vulnerabilità delle imprese liguri e delle famiglie a queste variazioni dei tassi risulta mitigata dalla ricomposizione del loro debito verso forme a tasso fisso attuata negli anni passati. Questo è un po' il quadro, poi tutti i dettagli verranno forniti. Diciamo che sul fronte delle prospettive, prospettive a breve termine, le prospettive sono molto incerte perché il quadro resta di elevata incertezza, l'incertezza è legata all'evoluzione delle tensioni geopolitiche, tutto il quadro geopolitico ma è legata anche all'andamento dell'inflazione che anche se è leggermente calata sicuramente in Liguria del 9 a 8 a marzo, comunque resta ancora elevata. Poi su questo tema ritorneranno tutti i relatori a questo tavolo, quindi diciamo che c'è molta incertezza. Allora proprio per questo io vorrei fare una piccola riflessione alzando lo sguardo, andando un po' oltre e guardando a quella che può essere un'ipotesi di sviluppo a medio e lungo termine dell'economia di questo territorio. Partirei da un settore che quest'anno non ha avuto una dinamica particolarmente brillante perché ha risentito del calo del commercio, del rallentamento diciamo del commercio internazionale ed è il settore dei trasporti e della logistica che è un settore assolutamente caratterizzante l'economia di questo territorio, tant'è che prima della pandemia rappresentava l'11,8%, produceva del valore aggiunto a fronte di un dato medio nazionale del 5,5%. Allora che cosa è importante sottolineare? Allora in questi servizi la domanda è legata a quello che è il disegno e anche l'intensità del commercio, soprattutto di quello internazionale, mentre l'offerta dipende da tutta una serie di fattori, ma tra questi sicuramente un ruolo rilevante lo hanno le infrastrutture. Allora sia dal punto di vista della domanda che dal lato dell'offerta ci sono aspettativi assolutamente favorevoli, proprio perché dal punto di vista della domanda rileva un fenomeno richiamato anche dal governatore nelle sue ultime considerazioni finali che è di regionalizzazione e diversificazione, quello che noi definiamo il near shoring, il fair shoring, che dovrebbe portare a favorire le rotte mediterranee a scapito di quelli a più lungo raggio. Ovviamente se questo dovesse succedere, di tutto ciò ne beneficerà il nostro paese, vuoi per la sua posizione geografica, vuoi anche per la sua specializzazione relativa nello short sea shipping. Questo sul fronte domanda, ma come soddisfare questo, noi ci auguriamo aumento della domanda dei trasporti marittimi, è molto importante la messa a terra di tutti quegli investimenti di potenziamento delle infrastrutture portuali. Voglio ricordare che il PNRR assegna alla logistica portuale molti fondi e alla portualità ligure il 30% di questi fondi. Allora sicuramente se ci sarà questo potenziamento delle dotazioni infrastrutturali e unitamente a questo potenziamento delle dotazioni infrastrutturali portuali ci sarà anche quello delle infrastrutture ferroviarie, anche un miglioramento della rete autostradale, ne beneficeranno non soltanto il comparto dei trasporti marittimi, ma anche altri comparti. Primi tra tutti ne beneficerà l'offerta turistica, non solo, ma anche la manifattura che potrà così esportare in maniera più fluida e più agevole i propri prodotti all'estero. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è vero che questo, il 2022, è stato un anno complesso ed è altrettanto vero che continuiamo a vivere questo momento di complessità, però possiamo anche guardare con un cauto ottimismo al futuro, questo sempre che tutti abbiano la capacità di sfruttare le opportunità man mano che vengono offerte, sempre che si abbia la capacità di realizzare tutti quel programma ambizioso di investimento che trova un finanziamento nelle risorse messe a disposizione dal PNRR. Un'ultima notazione però, nel fare tutto questo occorre è tener conto di un fenomeno che frena il potenziale di crescita della nostra regione, ma direi del nostro paese, un fenomeno anch'esso richiamato dal governatore, che è quello del declino della popolazione in età da lavoro. In realtà l'Istat già ci definisce come Liguria la regione più anziana. Gli anziani, gli over 64, hanno un'incidenza sul totale abbastanza significativa, dovrebbe essere intorno al 28,9%, e la popolazione in età da lavoro è del 60,3%, quindi consideriamo la fascia tra i 15 e i 64 anni, quindi abbiamo già un valore inferiore di 3 punti percentuali a quello medio nazionale. In base alle proiezioni Istat, nello scenario mediano, qui in Liguria, dovrebbe ridursi la popolazione in età da lavoro di circa un quinto, 180.000 persone. Vedete che questi sono dati assolutamente preoccupanti. Quindi che cosa è importante fare? Attivarsi sin da subito. In che modo? Alcune indicazioni ci sono state fornite dallo stesso governatore, prima tra tutti quello di elevare l'occupazione, l'impiego dei giovani e delle donne. Qualche misura che favorisce l'innalzamento dei livelli occupazionali la troviamo anche nel PNRR, si tratta un po' di capire e di sfruttare appieno queste opportunità, ovviamente questo non basta. Sarà necessario procedere a un allungamento della vita lavorativa che d'altra parte è reso possibile dal miglioramento delle condizioni di vita e di salute realizzato negli ultimi anni e poi a un aumento del saldo migratorio accompagnato da adeguate politiche di formazione e integrazione dei migranti. Io concludo qui, vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola a Davide Revelli. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Nel tempo a mia disposizione cercherò di descrivere un pochino più nel dettaglio il contenuto del nostro rapporto regionale e incomincio subito mostrandorvi questo grafico che rappresenta un indicatore elaborato dalla Banca d'Italia che misura l'andamento, una stima dell'andamento del PIL trimestrale. Tutto ciò che sta di sopra dello zero con segno positivo è crescita, tutto ciò che sta di sotto dello zero è decrescita. Si vede molto bene durante l'anno del Covid 2020 quanto forte è stato l'impatto della pandemia sull'economia regionale come anche d'altra parte sull'economia italiana, si vede altrettanto bene quanto è stato marcato il rimbalzo nell'anno successivo e altrettanto bene ancora si vede quello che è accaduto nel 2022 in cui abbiamo questi istogrammi che sono ancora in terreno positivo, quindi c'è stata ancora una crescita, ma l'altezza di questi istogrammi va progressivamente diminuendo, quindi c'è stata sì la crescita ma c'è stato un rallentamento, un rallentamento su cui hanno inciso vari aspetti, vari fattori, ha già ricordato la dottoressa Palumbo quello principale forse, i rincari di alcuni input produttivi e anche di alcune materie prime, in particolare gli input produttivi di tipo energetico che hanno alimentato un fenomeno inflattivo che non si vedeva dalla metà degli anni 80 e che hanno indotto le autorità monetarie delle principali economie avanzate e nel caso nostro della BCE ad adottare una politica monetaria restrittiva volta a contenere i livelli di inflazione che si è concretizzata in vari modi, il più evidente dei quali per tutti noi è stato il rialzo dei tassi di interesse che però ha avuto degli impatti sull'economia reale. Inoltre il rallentamento è stato determinato anche dall'incertezza del quadro geopolitico e quando parliamo di incertezza non facciamo riferimento soltanto all'evoluzione del conflitto in senso stretto ma anche a tutto quello che potrà conseguirne dopo nel riequilibrio dei vari giochi di forza relativa tra i vari blocchi economici del mondo. Ha già anticipato anche la dottoressa Palumbo che la crescita c'è stata ma è stata con andamenti differenziati tra i vari settori. Sappiamo che il comparto che ne ha risentito di più è stato quello dell'industria in senso stretto semplicemente perché fa un maggiore utilizzo di fattori produttivi intermedi, in particolare quelli energetici. Le ore lavorate nell'anno che noi assumiamo come un'approssimazione dell'attività produttiva vera e propria sono rimaste sostanzialmente invariate, ciò nonostante il fatturato delle imprese è aumentato ed è aumentato non soltanto grazie al rialzo dei listini prezzi praticati dalle imprese ma c'è stato un incremento anche in termini reali per capirci meglio in termini di quantità. Questa favorevole dinamica del fatturato ha risentito positivamente anche dell'andamento delle esportazioni che sebbene in regioni siano meno importanti rispetto alla importanza che rivestono in altre aree del paese hanno comunque giocato un ruolo importante dal momento che sono cresciute a prezzi costanti di una percentuale piuttosto significativa, circa il 14%. Un'altra nota un pochino distonica rispetto al buon andamento delle vendite è stato l'andamento degli investimenti. È pur vero che nei quattro anni precedenti gli investimenti in Liguria erano aumentati e quindi non ci si può attendere sempre e soltanto fasi di investimenti crescenti, però la cosa che ci ha un pochino stranito è derivante dal fatto che ancora alla fine dell'estate le imprese che avevamo intervistato nel nostro sondaggio congiunturale avevano dichiarato che entro la fine dell'anno avrebbero voluto incrementare gli investimenti, cosa che poi evidentemente non è accaduta. Gli investimenti infatti sono diminuiti di circa il 14%. Le costruzioni sono andate molto bene sia per il contributo del super bonus sia per il contributo delle opere pubbliche. È pur vero che in Liguria il ricorso super bonus è stato inferiore rispetto al ricorso che ne è stato fatto nel resto del Paese. Se pensiamo che in tutto il 2022 l'importo delle somme che hanno beneficiato di questa agevolazione hanno rappresentato circa l'1,5% del totale italiano e pensiamo al fatto che invece il PIL della Regione rappresenta circa il 2,7% del PIL complessivo italiano, abbiamo subito un'idea di quanto lo strumento sia stato da noi sottoutilizzato. Il terziario è andato bene ed è andato bene in particolare il turismo che ha beneficiato della definitiva rimozione di tutte quelle misure che erano state introdotte per contrastare la pandemia. Le presenze sono aumentate di circa un terzo, quelle straniere sono aumentate molto di più, anzi di oltre il 70%, i passeggeri di navi e traghetti sono quasi raddoppiati. Su questo grafico vediamo qual è stata la dinamica dei pernottamenti degli stranieri, la parte rossa dell'istogramma e la dinamica dei pernottamenti degli italiani. Alla fine dell'anno vediamo che sia la componente italiana che quella straniera si è riportata fondamentalmente sugli stessi valori pre-Covid, anzi a dir la verità l'altezza complessiva dell'istogramma è anche un pochino più alta, quindi abbiamo superato i pernottamenti e le presenze del 2019. L'andamento dei traffici portuali che in regione rivestono un'importanza notevole è stato ancora positivo, i traffici sono aumentati in termini di tonnellate del 3,6%, però progressivamente in corso d'anno i traffici hanno risentito del rallentamento del commercio internazionale. La movimentazione di container espressi in unità di carico, i cosiddetti TU che dir si voglia, si è ridotta del 2,3% e se guardiamo quest'altro grafico ci rendiamo conto per l'appunto che sia il tonnellaggio complessivo che è rappresentato da questa linea blu, sia la movimentazione in unità di carico dei container che è rappresentato dall'istogramma rosso stanno ancora al di sotto dei livelli prepandemici. Le transazioni immobiliari sono aumentate, dopo il forte rimbalzo dello scorso anno erano salite quasi del 40%, quest'anno si sono normalizzate, la crescita è stata del 5,6%, i prezzi che già erano aumentati un pochino lo scorso anno hanno continuato ad aumentare anche quest'anno anche se a tassi contenuti. Nel complesso del sistema economico regionale una grande parte delle imprese, oltre l'85% secondo le evidenze del nostro sondaggio, ha conseguito un risultato economico positivo e questo è un valore in crescita non soltanto rispetto all'anno precedente, vedete la parte blu di questo istogramma, ma è comunque elevato anche nel confronto storico. A che cosa è dovuta questo miglioramento della redditività? È dovuta principalmente a due fattori, è vero che le imprese hanno sopportato un rincaro dei fattori produttivi, però è altrettanto vero che perlomeno in parte sono riusciti a ribaltare questo ricavo sui propri listini prezzi e per un'altra parte sono riuscite ad aumentare anche le vendite in termini reali. La situazione di liquidità si è consolidata e lo si vede da qua, in cui questa linea nera che rappresenta la liquidità complessiva delle imprese ha avuto un picco nel terzo trimestre del 2022, una lieve riduzione nell'ultimo trimestre ma in sostanza si è mantenuta su livelli pari o di poco superiori a quelli del 2021, che già erano livelli molto elevati nel confronto storico perché beneficiavano ancora della possibilità di sfruttare alcuni provvedimenti che erano stati messi a disposizione delle imprese nel periodo del Covid e mi riferisco in particolare alla possibilità di ottenere dei nuovi finanziamenti assistiti da garanzia Covid. All'interno delle componenti della liquidità delle imprese abbiamo riscontrato una lieve riduzione dei depositi bancari, la parte blu di questo istogramma, che è stata compensata da un incremento invece della parte verde che rappresenta i titoli immediatamente smobilizzabili, quotati immediatamente liquidabili. Probabilmente questo lieve travaso è dovuto al fatto che alcune imprese hanno ritenuto più conveniente investire in titoli che a fronte del rialzo dei tassi di interessi hanno finalmente cominciato a produrre dei rendimenti un pochino più elevati rispetto al passato, togliendoli dai depositi che invece attualmente rendono ancora poco o nulla. Per concludere la parte finanziaria delle imprese esaminiamo qual è stato l'andamento del credito. Abbiamo già sentito dire dalla dottoressa che alla fine dell'anno i prestiti bancari alle imprese si sono ridotti dell'8-7%, che è un dato molto peggiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale, abbiamo già sentito che è stato in massima parte determinato dalle scelte di alcune rilevanti aziende, è altrettanto vero che però questo calo si è esteso a tutti i principali comparti, manifattura, costruzioni e servizi e ha risentito probabilmente anche del forte rialzo dei tassi di interesse e per avere un'idea di qual è stata la portata dell'incremento dei tassi di interesse, su questo grafico abbiamo rappresentato per il 2021 e per il 2022 le condizioni applicate ai nuovi finanziamenti alle imprese a lungo termine a tasso variabile, la linea rossa, e a tasso fisso, la linea blu. I tassi variabili hanno cominciato ad aumentare a partire dal terzo trimestre dell'anno in corrispondenza dell'incremento dei tassi di riferimento della BCE, mentre invece i tassi fissi avevano cominciato ad incrementarsi già prima, dal momento che cominciavano già ad incorporare le attese di un successivo rialzo dei parametri di riferimento, cosa che poi effettivamente si è puntualmente verificata. Secondo le indicazioni che derivano dall'indagine regionale sul credito bancario, la domanda di finanziamenti delle imprese si è indebolita soprattutto nella seconda parte dell'anno e soprattutto nella componente finalizzata agli investimenti. Oltre all'incremento dei tassi di interesse, le banche hanno segnalato anche l'adozione di criteri di offerta un po' più restrittivi, sia in termini di quantità, sia anche in termini di spread media applicati, ossia quei margini che le banche applicano in più rispetto all'ipotetico costo della raccolta, per prezzare la rischiosità della clientela, che come vedremo tra qualche slide è un pochino incrementata. Che il mercato del lavoro è andato bene lo abbiamo già sentito, gli occupati sono aumentati del 3,6. La cosa che vorrei sottolineare guardando il pannello di sinistra di questa figura è che il dato della Liguria, che è questa linea azzurrino chiaro, ha avuto un incremento tra il 2021 e il 2022 che è stato superiore rispetto all'incremento che si è registrato nelle aree di confronto, cioè nel nord-ovest e in Italia. Inoltre, mentre il nord-ovest e l'Italia sono tornati sugli stessi livelli pre-covid, vedete che più o meno siamo sugli stessi livelli, qua in regione abbiamo superato fortunatamente i livelli pre-covid. La creazione di nuovi posti di lavoro ha interessato tutti quanti i principali settori, c'è stato qualche settore che è andato meglio, qualcuno che è andato un pochino meno bene, ma tutti quanti sono andati abbastanza bene. Il tasso di disoccupazione è sceso in maniera abbastanza marcata, come si vede dall'andamento di questo istogramma grigio, ha perso quasi un punto e mezzo percentuale, dall'8,4 siamo scesi nella media dell'anno al 7%. Il ricorso agli strumenti di integrazione salariale, cioè la cassa integrazione guadagni e i fondi di solidarietà, è sceso molto e anche in questo caso si è quasi riportato sui livelli pre-covid. Il miglioramento del mercato del lavoro ha determinato un incremento dei redditi da lavoro che costituiscono circa l'80% del reddito disponibile delle famiglie e quindi avendo più risorse a disposizione le famiglie sono state spinte a consumare di più, però questa loro velleità è stata frenata dall'incremento dell'inflazione, come abbiamo già detto più volte in questa fase iniziale di questa presentazione. A dicembre l'inflazione in Liguria è stata pari al 13,6% e è stata guidata soprattutto dall'incremento del costo dei beni alimentari e dei beni della spesa per abitazioni e utenze. Entrambe le componenti rappresentano le componenti principali di spesa sia delle famiglie Liguri che delle famiglie italiane in generale. La cosa che caratterizza di più le famiglie Liguri rispetto alla media nazionale è la maggiore incidenza della componente riferita ad abitazioni e utenze, che tra l'altro è stata quella che ha anche riscontrato gli incrementi maggiori perché incorpora le utenze del gas e della luce elettrica. I consumi delle famiglie sono stati anche sostenuti dalla dinamica del credito, in particolare dalla dinamica del credito al consumo. Il credito complessivo alle famiglie sia di provenienza bancaria sia di provenienza di società finanziarie, per esempio quella del credito al consumo, nell'anno è aumentato del 3,4%, sono saliti sia i mutui sia per l'appunto il credito al consumo, però così come per le imprese nella seconda parte dell'anno si è registrato un calo della domanda, stessa cosa è successa anche per le famiglie e infatti si vede che la curva che rappresenta la variazione dei prestiti alle famiglie sul finire dell'anno ha avuto questo, non dico crollo, comunque questa decelerazione è abbastanza accentuata. I tassi di interesse sono aumentati sia sulla componente del credito al consumo sia per i mutui e in particolare per i mutui sono saliti in maniera piuttosto rilevante. A fine 2021 il tasso applicato alle nuove erogazioni di mutui era stato pari all'1,6%, alla fine del 2022 siamo passati al 3,6%, quindi la botta è arrivata. Sono aumentati anche in questo caso sia i tassi fissi che i tassi variabili e il fatto che i tassi siano aumentati ha reso meno conveniente per coloro che avevano già stipulato un mutuo rinegoziarlo, surrogarlo con un nuovo mutuo con cui tipicamente si cerca di ottenere delle condizioni più vantaggiose, semplicemente perché le condizioni di mercato hanno smesso di essere più vantaggiose. Mentre nei tempi in cui i tassi fissi soprattutto erano molto bassi, le surroghe avevano rappresentato addirittura il 20% delle erogazioni complessive, nel 2022 la componente rappresentata dalle surroghe è stata molto meno rilevante e scesa a circa il 4%. Parliamo ora di altri due aggregati creditizi importanti a cui abbiamo già fatto un pochino cenno. Il primo è la qualità del credito e il secondo sarà il risparmio finanziario. Per capire come è andata la qualità del credito analizziamo un indicatore, il tasso di deterioramento che vediamo rappresentato su questo grafico e che è un indicatore costruito in questo modo. Al numeratore si mette il flusso di nuove posizioni che nel corso dell'anno hanno incontrato delle difficoltà di rimborso e al denominatore si mette la consistenza complessiva di prestiti in bonus a inizio periodo, cioè in bonus ossia che non avevano problemi di rimborso. La linea nera rappresenta il tasso di deterioramento riferito al sistema economico complessivo e vediamo che tra fine 2021 e fine 2022 più o meno il dato è rimasto lo stesso, è aumentato di un decimo ma veramente è una piccola cosa. Però se andiamo a spacchettare il dato nelle due componenti famiglie e imprese, osserviamo che mentre il dato riferito alle famiglie, che è questa linea tratteggiata azzurra, è ulteriormente migliorato, scendendo su livelli veramente molto molto bassi nel confronto storico, il dato riferito alle imprese, pur rimanendo basso nei confronti degli anni passati, ha comunque avuto un lieve incremento. Per le imprese, oltre all'incremento di questo indicatore, abbiamo registrato anche una maggiore incidenza dei prestiti per i quali le banche hanno segnalato un incremento della rischiosità. Non si tratta ancora di un peggioramento conclamato che ha già dato luogo a difficoltà di rimborso, però le banche registrano per l'appunto un incremento del rischio ed è probabilmente proprio a seguito del fatto che le banche registrano questo incremento del rischio che, come abbiamo detto prima, hanno applicato condizioni lievemente più restrittive. Sul fronte del risparmio finanziario i depositi complessivi di imprese e famiglie sono scesi di poco, 1,1%, però anche questo è un po' un'inversione di marcia perché era tanti anni che i depositi continuavano ad aumentare. Parte di questo calo è probabilmente dovuta alla scelta di imprese e famiglie, come vi accennavo già prima, di convogliare, travasare parte della liquidità disponibile, poco remunerativa, su forme invece più remunerative, come per esempio i titoli di Stato o le obbligazioni bancarie. Tanto è vero che nell'ambito dei titoli a custodia, che nel complesso sono diminuiti di oltre 6 punti percentuali prevalentemente per una riduzione dei corsi di mercato, nell'ambito dei titoli a custodia sono aumentati invece i titoli obbligazionari, sia pubblici, titoli di Stato, che privati, in particolare le obbligazioni bancarie. Quindi, riassumendo e provando a guardare un pochino in prospettiva, sicuramente nel 2022 non possiamo essere scontenti di come è andata l'economia nella nostra regione, c'è stata una crescita, anche se questa crescita è stata frenata da come si è evoluto il contesto macroeconomico, non è che abbiamo avuto delle colpe particolari, i nostri operatori economici abbiano avuto delle colpe particolari. Le prospettive per il futuro, come ha già accennato la dottoressa Palumbo, purtroppo sono ancora molto incerte. Da una parte è veramente difficile valutare, immaginare come si potranno sviluppare il conflitto e i conseguenti equilibri geopolitici e, d'altro canto, la BCE stessa, nelle più recenti previsioni, ha prefigurato un rientro dell'inflazione verso l'obiettivo statutario del 2% soltanto nella seconda metà del 2025, quindi probabilmente l'inflazione è una compagna di viaggio con cui dovremmo accompagnarci ancora per un po' di tempo. Ovviamente però sulle prospettive future incidono anche dei fattori positivi che riguardano prevalentemente gli effetti attesi dalla realizzazione dell'IPNRR e in particolare sappiamo che in regione sono state assegnate risorse significative che riguardano principalmente l'ammodernamento infrastrutturale, in particolare nella componente ferroviaria e nella componente portuale, che come abbiamo già avuto modo di osservare potrebbero teoricamente e potenzialmente rappresentare un incremento dell'offerta che potrebbe essere sfruttato da due delle attività che sono tradizionalmente specialistiche della nostra regione, cioè il turismo e i servizi di trasporto. Con questo terminato lascio la parola al mio collega. Buongiorno a tutti, grazie Davide. Io con la mia presentazione voglio invece ad analizzare le parti del nostro rapporto che cercano di analizzare quali possono essere gli impatti per la nostra regione dei principali fattori di rischio e dell'opportunità di crescita che già il dottore Revelli e la dottoressa Palumbo hanno evidenziato. Faccio riferimento in particolare ad elementi per quanto riguarda i fattori di rischio che hanno già avuto un impatto sull'attività economica della nostra regione nel corso del 2021 e del 2022 e sono legati in particolare all'incertezza del quadro geopolitico, ai rincari degli input produttivi, all'andamento dell'inflazione, oltre che all'analisi delle esposizioni di famiglie e imprese all'aumento dei tassi di interesse. Per quanto riguarda invece l'opportunità di crescita, anche qua come già stato sottolineato, sono legati principalmente agli investimenti pubblici e alle risorse assegnate alla nostra regione per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza e per quanto riguarda il nuovo ciclo di programmazione delle politiche di coesione per gli anni 2021-2027. Analizzando il settore industriale, sulla base dell'informazione tratte dal nostro sondaggio che abbiamo svolto nel corso del mese di maggio su un campione di circa 110 aziende, abbiamo analizzato come per il 2023 le previsioni di vendita sono improntate alla crutela, sebbene i problemi di approvvigionamento di input produttivi che avevano caratterizzato in particolare il 2021 sono in corso di miglioramento. Infatti come si vede nella prima parte del grafico, la quota di imprese che ha dichiarato di aver avuto difficoltà di approvvigionamento o costi elevati di semiconduttori o altri input produttivi è risultata in calo nel 2022 rispetto al 2021, sebbene per quanto riguarda gli input diversi dai semiconduttori questa quota si è mantenuta superiore al 50%. E anche per fare fronte a queste difficoltà circa il 70% delle imprese liguri, come si vede nella parte a destra del grafico, ha dichiarato di attendersi per il 2023 un ulteriore aumento dei propri prezzi di vendita e circa il 60% delle imprese ha dichiarato di attendersi invece un calo dei propri margini di profitto. Nel nostro rapporto abbiamo cercato di quantificare l'impatto che questi problemi hanno avuto sui costi di produzione del settore manifatturiero e in particolare secondo le nostre stime i costi di produzione della manifattura nel corso del 2022 rappresentati dalla linea rossa del grafico a sinistra sono aumentati di circa 15 punti percentuali. La crescita si è concentrata nei primi tre mesi del 2022 per poi azzerarsi nell'ultima parte dell'anno. L'aumento del costo del lavoro sarebbe stato invece molto più contenuto e pari a circa un punto e mezzo, mentre invece i prezzi di vendita sarebbero aumentati di circa 11 punti percentuali. Applicando queste variazioni ai dati di bilancio del 2021 abbiamo stimato quello che può essere l'impatto sulla redditività delle aziende. Redditività intesa come rapporto tra il margine operativo lordo, inteso come differenza banalmente tra il fattorato e i costi operativi e il valore della produzione. La redditività è rappresentata da questi Instagram azzurri sul grafico di destra e si può vedere come per le industrie liguri la redditività sarebbe diminuita di circa 1,4 punti percentuali a un tasso leggermente superiore a quello nazionale. Nell'ultima parte del grafico abbiamo inoltre scomposto questa differenza e da questi Instagram si può vedere come tutta la differenza è legata all'aumento del costo degli input produttivi che sono rappresentati dalla parte rossa di questo Instagram, mentre invece il costo del lavoro che è rappresentato da questa parte sul giallo arancione avrebbe frenito un contributo positivo alla variazione della redditività in quanto la crescita del costo del lavoro come abbiamo visto prima è risultata comunque più contenuta rispetto all'aumento dei prezzi di vendita. Come già stato accennato anche questo nelle precedenti presentazioni l'aumento dei costi e l'aumento dell'inflazione non hanno un impatto solo sulle aziende ma un impatto molto significativo anche sulle famiglie. Anche qua ripetendo informazioni che sono già state sottolineate, l'inflazione sui 12 mesi in Liguria a dicembre 2022 si è attestato al 13,6%. Come si vede nel grafico a sinistra sono aumentate tutte le componenti e in modo particolare è quella legata all'utenza dell'abitazione che è rappresentato dalla parte azzurra di questi strammi, voce dell'utenza dell'abitazione nel cui interno sono comprese anche le spese per l'elettricità e il gas che sono quasi raddoppiate rispetto allo stesso periodo del 2021. Rispetto al dato nazionale l'inflazione in Liguria è stata superiore di due punti percentuali. Anche in questo caso nella seconda parte del grafico abbiamo scomposto questa differenza col dato nazionale per vedere quali sono le componenti che hanno contribuito in misura più rilevante. In particolare la differenza è stata scomposta in tre effetti. Il primo è l'effetto composizione, dato dalla diversa composizione appunto dei panieri di spesa in regione rispetto al dato nazionale, il secondo effetto è l'effetto intensità, cosiddetto, rappresenta un diverso andamento dei prezzi delle singole voci di spesa sempre in regione rispetto al dato nazionale e il terzo è un effetto interazione con un effetto più marginale e che possiamo anche tralasciare. Come si vede dall'ampiezza di questi strammi tutta la differenza rispetto al dato nazionale è legato all'effetto composizione ed è dovuta alla maggiore incidenza che le spese per utenze e abitazioni hanno in regione rispetto al dato nazionale. Nel nostro rapporto abbiamo analizzato la differenza di andamento dell'inflazione non solo rispetto al dato nazionale ma l'abbiamo valutato anche l'eterogenità rispetto a diverse classi di famiglie. In particolare quello che si vede nel grafico a sinistra che l'inflazione per le famiglie meno abbienti rappresentata da questa riga rossa continua è risultata più elevata rispetto all'inflazione registrata per le famiglie più ricche che invece è rappresentata da questa riga tratteggiata blu che è quella più bassa di questo grafico. Questa differenza nel corso del 2022 ha raggiunto quasi gli 8 punti percentuali mentre era sostanzialmente nulla per rima del 2021. Verso la fine dell'anno e con l'inizio del 2020 sarà comunque leggermente diminuita. Anche in questo caso nella parte a destra del grafico vedete la scomposizione di questa differenza per vedere quali sono le componenti più rilevanti e come per il confronto con il dato nazionale anche in questo caso la differenza è spiegata in misura maggiore per la maggiore incidenza che le spese per l'utenza e l'abitazione hanno nel paniere di spesa delle famiglie meno abbienti. Per cercare di contenere i rischi legati all'aumento dell'inflazione la banca centrale europea ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria impattando sui livelli dei tassi di interesse. Il livello dei tassi che incide non solo sul corso dei nuovi finanziamenti ma incide anche sul corso dei finanziamenti in essere a tasso variabile. E quindi per valutare l'esposizione delle imprese al rialzo dei tassi noi abbiamo considerato i finanziamenti con scadenza pari o superiore all'anno che rappresentano circa i due terzi del totale dell'indepitamento delle imprese liguevi. Quello che abbiamo visto è che dal 2019 al 2022 c'è stato un aumento della quota di finanziamenti a tasso fisso che sono aumentati in misura molto significativa dal 21 al 31% con un'intensità superiore rispetto al dato nazionale. Questa ricomposizione come si vede nella prima parte del grafico è stata più accentuata per le imprese di piccole dimensioni. Infatti per le imprese con meno di 10 addetti la quota di finanziamenti a tasso fisso è quasi raddoppiata attestandosi a circa il 38% del totale. Tale ricomposizione ha una volta riguardato tutti i settori di attività come si vede invece nella parte a destra ed è stata più intensa per la manifattura e le costruzioni. E questo ovviamente riduce la vulnerabilità delle imprese ai rischi di un aumento dei tassi di interesse. Aumenti dei tassi anche qua come già stato sottolineato ha un impatto molto rilevante anche sulle famiglie non solo sulle aziende. In questo grafico nella parte a destra possiamo vedere come nel corso del 2022 i tassi applicati ai nuovi finanziamenti per gli acquisti di abitazioni sono progressivamente aumentati sia nella componente a tasso fisso rappresentati dalla linea tratteggiata rossa del grafico a sinistra sia nella componente a tasso variabile. Il tag medio applicato ai nuovi finanziamenti nell'ultimo trimestre del 2022 infatti si è attestato al 3,6% con una crescita molto significativa rispetto all'1,6% del 2021. Anche in questo caso è importante analizzare la composizione per tipologia di tasso dei mutui in essere ed è quello che viene fatto nel grafico a destra. Anche in questo caso si può notare come la quota di finanziamenti da tasso fisso rappresentati da questi puntini blu sono progressivamente aumentate nel corso degli anni fino a stabilizzarsi nel corso del 2022 a circa il 66% del totale e anche in questo caso questo tutela le famiglie da un aumento del costo dell'idebitamento a seguito di un aumento dei tassi, aumento del costo che può essere anche significativo. Infatti secondo le nostre analisi, ipotizzando un aumento dei tassi in mediano di circa 3 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022, la rata mediana delle famiglie ligure aumenterebbe di quasi 20 punti percentuali. Fino adesso ho parlato di quelli che possono essere i rischi per l'attività economica della nostra regione, voglio invece concedere l'ultimo slide della mia presentazione su quelli che possono essere invece le opportunità di crescita. Le opportunità di crescita che come ho evidenziato all'inizio sono legati principalmente agli investimenti pubblici. Per quanto riguarda il nuovo ciclo di programmazione delle politiche di coesione alla Liguera sono stati assegnati circa 1,1 miliardi di euro e come si vede nella prima parte del grafico, anche se non si vede benissimo i singoli programmi, comunque queste risorse per i tre quarti di queste risorse sono state assegnate a programmi legati all'inclusione sociale, alla competitività, alla digitalizzazione e un ulteriore 18% è stato assegnato invece a progetti legati alla transizione ambientale. Per quanto riguarda invece il piano nazionale di ripresa e resilienza, il piano nazionale complementare, analizzando i decreti di assegnazione alla data dello scorso mese di aprile per enti attuatori pubblici, alla Liguera erano stati assegnati fondi per circa 4,9 miliardi di euro, una quota leggermente superiore al 4% del totale nazionale. Un ruolo fondamentale per l'utilizzo di queste risorse è stato assegnato agli enti pubblici e in modo particolare ai comuni. E per valutare lo sforzo che viene richiesto nell'utilizzo di queste risorse ai comuni Ligueri, noi abbiamo confrontato le risorse assegnate anno per anno con quelle effettivamente spese dai comuni Ligueri nella media dell'ultimo triennio precedente alla pandemia, quindi dal 2017 al 2019. Ipotizzando che queste risorse non siano alternative, quindi una non sostituisca l'altra, ma che siano delle risorse aggiuntive, abbiamo stimato come per i comuni Ligueri sia richiesto di aumentare la loro capacità di spesa nel periodo 2023-2026 di una quota compresa tra il 64% e l'83%. Analizzando le risorse assegnate per tipologia di missione, quello che si può vedere è che rispetto alla media nazionale la maggior quantità di risorse in Liguria è legata alla missione 3, quella legata alle infrastrutture per una mobilità sostenibile e come già ha sottolineato il dottore Revelli sono legati all'amodernamento delle infrastrutture ferroviarie e quelle portuali. L'ultima slide della mia presentazione la dedico a riportare i dati di un'analisi che abbiamo svolto sull'occupazione attivabile dal piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore delle costruzioni. Abbiamo preso di riferimento al settore delle costruzioni non perché sia l'unico nel quale ci attendiamo un aumento dell'occupazione grazie ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza ma perché ad oggi le misure di questo settore sono più facilmente regionalizzabili. Alla data di gennaio scorso su questo settore hanno stati assegnati in Liguria risorse per circa 1,9 miliardi di euro, anche in questo caso una quota leggermente superiore al 4% del totale nazionale. Sulla base delle nostre analisi queste risorse determinerebbero un incremento medio nei livelli del valore aggiunto e dell'occupazione dipendente pari rispettivamente al 9,3 e all'8,4%. Questo è rappresentato nel grafico a sinistra dove gli strami sono rappresentati in livelli medi di occupazione attivabile mentre la riga gialla rappresenta le variazioni rispetto al dato del 2019. Tale variazione è superiore anche alle aree di confronte ed è superiore a quanto è registrato in Liguria nel biennio 2019-2021 dove l'occupazione nel settore delle costruzioni era cresciuto meno rispetto all'Nordovest e all'Italia anche per il minore ricorso che era stata fatta in regione degli incentivi statali per la risotturazione di giudizia. Questa era l'ultima slide. Grazie. Prego professor Sabatini. Grazie per l'invito. Buongiorno. Quello che io cercherò di presentarvi è un'altra faccia di quello che è il fenomeno dell'inflazione ed è l'inflazione percepita dalle famiglie. Se noi abbiamo visto finora parecchi numeri arrivarci, io ho faticato anche a cercare di analizzarli e sistemarli. Voi immaginate la casalinga di Voghera o l'Homu aiendi che te l'è per citare qualcosa di un pochettino più antico. La difficoltà di recepire, analizzare e in qualche modo sviluppare dei comportamenti coerenti rispetto a ciò che accade non è sempre semplice ed è soprattutto una risposta percettiva a una realtà ed è una risposta che sia individuale sia collettiva, quindi familiare ma anche di gruppo, imprenditori, casalinghi, operai, impiegati che tendono a muoversi sociologicamente anche in maniera abbastanza compatta. Prima cosa, cos'è l'inflazione? Sono andato a cercarmelo, sono andato sul sito della Banca d'Italia per essere amico di chi mi ha invitato e ho trovato questo, l'inflazione è l'aumento generalizzato dei prezzi, dei beni e dei servizi. L'inflazione non riguarda quindi il prezzo di un singolo prodotto ma interessa molti beni e servizi. Bene, metto da parte questa definizione e uso un'altra definizione che sono le due che ci seguiranno in questa presentazione. Cos'è la percezione della realtà? La percezione della realtà è la capacità che ha la nostra mente di valutare l'ambiente esterno e quello interno in modo congruo rispetto a quello che accade. Non sempre quello che percepiamo è la realtà. Ci sono da brumere avanti sociologi che ci dicono che la realtà è co-costruita, cioè noi co-costruiamo continuamente la nostra realtà. Non c'è niente di oggettivo, è tutto sostanzialmente soggettivo, ciò dice anche la fisica quantistica peraltro. Veniamo alla ricerca. Allora, noi abbiamo detto, bene, proviamo a vedere che cosa, come le persone, le famiglie comprendono dell'inflazione e poi che comportamenti mettono in campo. Primo, il campione intervistato in Liguria nel 98,4% dei casi dichiarate di aver percepito un aumento dei prezzi nell'ultimo anno. O direttamente o mediato attraverso il sistema dei media, tutti sostanzialmente ci siamo resi conto che c'è stato un aumento dei prezzi. E' un'altra informazione che mettiamo da parte. Nella realtà, nel maggio 2023, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ci dice che effettivamente c'è stato un aumento dello 0,3% su base mensile e un 7,6% su base annua. Quello che abbiamo sentito o direttamente o attraverso i media risulta coerente con ciò che è accaduto. Per cui la nostra percezione della realtà è ancora sostanzialmente in linea. Quando facciamo un passo avanti però, comincio un po' a scherchiolare. Allora, ad esempio tre prodotti, riso, latte, olio d'oliva. Quello che è accaduto nella realtà è che in un anno il riso ha aumentato dell'80,4%, il latte del 21,7%, l'olio del 18,9%. Questi qui sono dati rilevati dal comune, quindi dall'ufficio prezzi del comune di Genova, quindi sono reali. Quello che abbiamo percepito sia tra gli intervistati, sia tra, poi l'ho chiesto anche a diversi corsi che tengo, sono più o meno le stesse cose. Quello che percepiamo è un po' di stonico. Quello che percepiamo è che l'olio è rincarato molto, è rincarato anche il latte, ma non il riso, sebbene il riso sia aumentato dall'80,4%. Allora esiste una realtà, esiste una percezione della realtà. Quello che noi poi vedremo sono delle percezioni e dei comportamenti che cominciano a essere diversi ed è interessante tenerne conto nel momento in cui si fanno delle analisi. Dove sono avvenuti i rincari secondo gli intervistati? Andiamo a vedere per categorie e divisi una volta per corti anagrafiche e un'altra volta per alcune delle professioni. Ad esempio per gli anziani gli alimentari sono aumentati molto di più rispetto per i giovani e per gli adulti, sebbene siano aumentati ovviamente, e per tutti si sono aumentati molto. La media è intorno al 70,8%. Lasciamo perdere la media in questo caso. Vediamo le diverse corti. Per gli anziani sono aumentati molto più che per gli altri. Per gli altri, per i giovani e per gli adulti, giovani dicono 18-35, adulti dicono 34, adulti 35-54 e così via, i rincari hanno riguardato in maniera relativa molto di più. La telefonia, l'auto e la moto, l'abbigliamento, i pranzi e le cene fuori casa e l'intrattenimento. Cosa che per gli anziani è un po' meno. L'energia, di nuovo, altra cosa che è stata citata diverse volte, secondo gli anziani è aumentata molto di più rispetto che per i giovani. Quindi diciamo che la percezione di tutto ciò che accade è sempre un po' relativa. Non dico che sia relativa del tutto, però ognuno ha la sua idea di ciò che sta accadendo. La stessa cosa succede ad esempio per le diverse categorie professionali. Per gli imprenditori, ad esempio, è aumentato tantissimo l'abbigliamento. Io mi vesto sempre uguale, non ho un problema di questo genere. Oppure l'energia. Mentre per i pensionati, 95% gli alimentari, 86% quasi l'energia. Per i lavoratori dipendenti non sono stati un problema tanto, sempre in termini relativi, gli alimentari piuttosto che l'auto, la moto e l'abbigliamento, ma sono andati a toccare maggiormente la parte della telefonia, pranzi e cene fuori casa e l'intrattenimento. Un'altra domanda, questa situazione è preoccupante? Tutti questi rencari vi hanno preoccupato? Beh, direi che se il 98,4% ha percepito un aumento, più o meno tutti, tutti quelli che hanno percepito un aumento sono molto o abbastanza preoccupati. Molto o abbastanza. Questa dicotomia, nessuno è poco, nessuno è per niente, quindi rimaniamo su una dicotomia molto abbastanza. Tra il molto ci sono quelli che hanno un'istruzione minore e quelli che hanno minori tutele dal punto di vista socio-professionale. L'abbastanza, quindi la dicotomia diventa positivo e negativo, negativo e positivo, in realtà rompe, spacca lì in mezzo. Sono poco meno preoccupati quelli che hanno più tutele, più reddito, più istruzione. Weber, ciò lo diceva Max Weber, ci diceva lo status socio-economico, determina una serie di cose. Benissimo, queste sostanzialmente l'istruzione porta al reddito che porta a una maggiore tutela e porta a una minore preoccupazione per il futuro. E questo è relativamente anche inerente alla questione dell'infrazione, che preoccupa soprattutto chi è già preoccupato di suo, cioè è una sorta di teglia di lasagne in cui ogni strato ha una preoccupazione in più. Chi ne ha già detto in genovese Ciove in Schubagnò? Permettetemi la mia citazione, essendo di Campomorone. Allora, quali sono, ultima parte, le strategie che hanno messo in campo le diverse categorie? La prima, ridurre i consumi. Il 78% ha detto, vabbè, io di fronte a questa percezione, che è reale, però comunque una percezione, ognuno ce l'ha per sé, uno è più preoccupato, l'altro meno, riduco i consumi. Oppure, ma molto, ma molto meno, compro lo stretto necessario, sostituisco i prodotti, oppure cambio luoghi d'acquisto. Questi due sono molto simili. In realtà uno è, compro nello stesso luogo, ma prendo prodotti di marche che costano meno, e l'altro è cambio direttamente luogo di acquisto. Come si muovono? Beh, sebbene siano abbastanza simili, gli anziani forse decidono di ridurre i consumi un po' più degli altri, mentre altre categorie utilizzano dei comportamenti diversi. Anche qua vediamo, sebbene siano abbastanza simili, con minori oscillazioni rispetto alla percezione, comunque notiamo, abbiamo notato, qualche cambiamento. Tra gli anziani, soprattutto anche nel cambiare i luoghi di acquisto, gli adulti tendono a essere, probabilmente perché hanno la macchina, gli anziani magari meno, possono utilizzare, si spostano meno, tendono a frequentare, a avere comportamenti molto più ricorsivi, molto più ridondanti, gli altri possono muoversi in maniera maggiore. Cosa hanno fatto? Ad esempio, e qui arrivo verso la fine, le strategie a livello di condizione professionale riducono i consumi, soprattutto i pensionati e i dipendenti, gli imprenditori, una categoria presa a caso, hanno una minore propensione a ridurre i consumi quanto mantenere gli stessi consumi ma cambiare i luoghi d'acquisto, mentre i dipendenti tendono a comprare lo stesso necessario e gli anziani, negli stessi luoghi d'acquisto, o riducono i consumi o sostituiscono i prodotti. Per sintetizzare tutta questa cosa, visto che ho citato il genovese, questo ultimo slide, ho letto con una cantilena piuttosto marcata, ho cercato di sintetizzare tutto in questo modo, ed è questa qua, la frutta sale sempre di più e l'altro lo dice, se continua così finisce che torna sugli alberi. Grazie. Grazie professor Sabatini, adesso vediamo un po' che cosa ci racconta il professor Quali, le imprese hanno reagito, come hanno reagito le nostre imprese? Sì, io più che sui dati farò delle considerazioni un po' qualitative, beh dunque qui vedete alle mie spalle un po' un grafico che rappresenta l'andamento dell'indice totale dei prezzi sulle commodity, quindi sulle materie, sulle componenti di acquisto, e vedete che la fiammata è iniziata ben prima della crisi ucraina, sostanzialmente è stata un po' la ripresa dal covid, quindi si è unita, diciamo così, una crescita improvvisa, forte della domanda, con un'inflazione anche da costi, perché determinate materie provenivano da paesi che scontavano e hanno scontato delle crisi politiche. Tenete conto che nella seconda parte del 2021 un grosso problema era proprio far arrivare merci dalla Cina, perché tutti i controlli del covid che venivano fatti là ostacolavano l'acquisizione da parte delle imprese. Quindi un'inflazione molto da costi quella che è avvenuta alle imprese, però sia ben chiaro, è giusto per farla contraltare a quanto diceva Luca Sabatini, le imprese odiano l'inflazione, in generale le imprese odiano qualunque shock macroeconomico, si preferirebbe sempre una crescita progressiva e moderata dei fondamentali dell'economia, per cui anche per esse si tratta di problemi che sono da affronteggiare. I problemi ovviamente nascono magari su un tipo particolare di fattore produttivo, nel caso di specie l'energia è stata senz'altro quella che ha inciso di più, ma poi progressivamente, inevitabilmente, si estendono a tutte le tipologie di fattori produttivi, servizi, lavoro dipendente, denaro e la struttura produttiva che merita un discorso un po' a parte. Teniamo presente che nei momenti di crescita dei prezzi c'è anche una situazione di scarsità, il prezzo riflette la disponibilità anche di questi beni, per cui c'è anche un problema che non solo si acquista a prezzi più alti, ma si acquistano anche minori quantità e magari non c'è la capacità di far girare gli impianti con quel pieno regime o quella capacità produttiva che assicurerebbe dei costi unitari un po' più bassi. Quindi c'è anche un problema di minore sfruttamento della capacità produttiva che si riflette a sua volta, è come un circuito perverso che si autoalimenta. Dal punto di vista dei servizi, quelli che hanno inciso di più sono i servizi strettamente collegati e che usano molto l'energia, quindi trasporti, oltre ovviamente all'energia in senso stretto, gas e luce. Il lavoro dipendente, abbiamo osservato così nelle nostre analisi che dal Covid c'è stato un incremento della retribuzione oraria, però diciamo che questi adeguamenti del costo del lavoro non avvengono in maniera così rapida e progressiva, così come invece avvene per gli altri fattori produttivi. Il costo del denaro è, come avete visto, ormai ci attestiamo su tassi che girano attorno al 4%. Chiaramente le aziende sostengono questi costi in relazione ciascuna alla propria struttura finanziaria. Chi è più indebitato ovviamente subirà maggiormente questo incremento dei tassi di interesse. Tenete presente che nel nostro Paese, così come media nazionale, ogni impresa ha un terzo delle fonti a titolo di mezzi propri e due terzi circa a titolo di debito. Quindi capite che un incremento del costo del denaro si riflette sensibilmente sulle economie. Sulla struttura produttiva è quella meno percepita ma è anche la più pericolosa. Nel senso struttura produttiva intendo gli impianti, quindi la dotazione di macchinari, la dotazione tecnica. Tenete presente che questi sono costi già sostenuti che vengono poi in qualche modo sostenuti e ripartiti durante il tempo con la procedura di ammortamento. L'ammortamento dovrebbe facilitare il rinnovo degli impianti, cioè tramite l'ammortamento consente l'impresa di accumulare delle risorse per poi procedere al rinnovo degli impianti. Tenete presente che in una situazione in cui gli impianti sono acquistati tempo fa gli ammortamenti saranno calcolati su quella base, quindi saranno ammortamenti inferiori rispetto a quelli che sarebbero necessari per favorire il rinnovo della struttura. Ecco che quindi le imprese inevitabilmente rilevano degli ammortamenti più bassi. Poi ora per decreto sono tre anni che il governo consente alle imprese di non stanziare ammortamenti, quindi a questo punto di vista ci sarà un problema nell'avere la dotazione di risorse finanziarie necessarie per sostenere il rinnovo e lo sviluppo della struttura produttiva. A questo riguardo mi preme di segnalare come sia stata molto sfruttata la legge di rivalutazione degli impianti. Tenete presente che circa 80 miliardi è stato l'importo delle rivalutazioni a seguito della legge e queste rivalutazioni se da un lato hanno favorito la strutturazione dei mezzi propri delle aziende e da quell'altra non hanno rivalutato tutto nello stesso modo. Sono stati rivalutati soprattutto i marchi ma non la struttura produttiva in pianti e macchinari. Quindi è un percorso che parte magari da un fattore e si trova poi a coinvolgere tutti gli altri. Come le imprese reagiscono? Prima di tutto si cerca delle coperture sia di tipo formale, si pensi ad esempio per fronteggiare la variabilità dei tassi ai classici derivati un interest rate swap e quindi dove scambio un fisso con un variabile. Però ci sono anche coperture sostanziali, cioè sempre più le imprese cercano di dotarsi di contratti di fornitura di lungo periodo che assicurino una certa stabilità dei prezzi e una garanzia anche dei volumi. Ovviamente in tempi di inflazione è fondamentale la gestione dei magazzini e qui però le imprese quello che odiano maggiormente è l'incertezza su quella che sarà l'evoluzione futura perché ad esempio alcuni si trovano ad aver fatto il pieno dei magazzini in periodi dove il prezzo di acquisto era più basso e altri invece si trovano ad avere dei magazzini già mezzi vuoti che richiedono poi un successivo riempimento e questo ovviamente si traduce nella maggiore o minore capacità dell'impresa di sostenere questa inflazione senza tradurla in aumenti dei prezzi di vendita. Perché poi alla fine quello che diceva anche la relazione di Banca d'Italia si vede proprio questo che una parte delle imprese sopporta i maggiori costi di acquisto dovuti a questa inflazione comprimendo i propri margini di profitto e quindi cercando di lasciare il prezzo di vendita immutato e questo è un mercato concorrenziale fondamentale perché scatenare la guerra dei prezzi non piace mai a nessuno toccare i prezzi dei listini di vendita è l'ultima manovra che un'impresa vorrebbe fare cercando il più possibile di contenerla. Il cambiamento dei fornitori è fondamentale nel senso che si è fatto ricorso ed è una delle politiche più adottate anche se qui si pone un problema di garanzia della medesima qualità nel momento in cui cambia i fornitori. Incide molto poi la struttura finanziaria perché l'abbiamo detto adesso, un'impresa più indebitata sarà più esposta anche se da un lato mi troverò a ripagare i debiti con una moneta svalutata, un tempo si diceva così anche se ovviamente su questo debito incide maggiormente i tassi di interesse più alti. Quindi sostanzialmente c'è una varietà di manovre possibili per le imprese l'ultima delle quali è questo ritocco dei prezzi di vendita che vi ripeto nei mercati un po' concorrenziali viene vista sempre come una manovra, un estrema razio a cui sarebbe bene non ricorrere. Ovviamente bisogna anche ragionare su come l'imprenditore percepisce l'inflazione. Il problema della percezione che diceva prima Luca Sabatini può essere esteso anche alle imprese. tendenzialmente il classico piccolo imprenditore ragiona molto sul costo di riacquisto cioè anche se ho sostenuto il costo di acquisto tempo fa e quindi materialmente non dovrei essere toccato dall'inflazione nella realtà poi tendo a ragionare replicando, immaginando che poi quando andrò a riacquistare quei beni pagherò di più e quindi già adesso mi anticipo aumentando i prezzi di vendita. Da questo punto di vista diciamo che per chi si occupa di bilanci come me sarebbe buono che le imprese in tempi di inflazione riscoprissero delle tecniche che chi ha un po' di anni e chi ha visto l'inflazione al 20% a quel tempo si studiavano. Io mi ricordo da studente li studiavo queste tecniche costo corrente di riacquisto piuttosto che rivalutazione tenendo conto degli indici di prezzi. In particolare mi preme sottolineare come a livello gestionale un'impresa dovrebbe in ogni caso stanziare degli ammortamenti calcolati sui costi effettivi di rinnovo e non sui costi storici. Comunque il fenomeno si spera per quanto ci sia un po' di incertezza nell'evoluzione si spera si stia un po' riducendo resta queste enormi incertezze sullo scenario globale, politico e economico. Io in particolare tremo molto a quello che succede in Estremo Oriente dalle parti del Mar Cinese perché voi sapete le tensioni che ci sono in quella parte del globo e posso immaginare, sperando ovviamente che in qualche modo non si possa scansare, cosa succederebbe se la Cina decidesse un giorno di invadere Taiwan. Io penso che il Covid e l'Ucraina messe insieme non eguaglierebbero l'impatto che avrebbe quello. Quindi ben vengano queste trattative a livello politico. Ora so che c'è una missione importante da parte degli Stati Uniti e spero bene che queste non si traducano in un ulteriore shock che stavolta avrebbe veramente degli effetti perversi. Grazie. Allora ringrazio il professor Quagli e adesso passo la parola ad Alessandra Perazzelli che tirerà le file di tutto questo lavoro pomeridiano. Grazie Alessandra. Grazie, grazie. Mi sentite bene, sì, ecco. Allora come abbiamo potuto apprezzare, andando avanti alla seconda slide, dai colleghi abbiamo visto come l'economia della Liguria ha in realtà manifestato un trend di espansione, anche se vediamo in questo momento un progressivo rallentamento confermando anche a livello regionale la capacità di reazione del nostro Paese nell'affrontare le conseguenze di quello che abbiamo visto finora e quindi il conflitto ucraino così come l'uscita dalla pandemia che ha presentato tutta una serie di implicazioni e di impatti sulla nostra economia. Ecco, quindi c'è stata una resilienza del tessuto produttivo nazionale che nasce da processi di ristrutturazione che magari non sono stati completi, che magari non hanno toccato tutto il territorio nazionale ma che sono stati realizzati nell'ultimo decennio. Quindi a livello nazionale possiamo dire che l'accumulazione di capitale, il miglioramento della produttività così come il recupero della competitività internazionale hanno spinto il nostro Paese in questo momento di difficoltà globale. Ci sono naturalmente una serie di ritardi e di debolezze che provengono da quelle che sono diciamo temi di fondo che speriamo possano essere indirizzati con un giusto utilizzo dei fondi del PNRR e che possano in qualche modo diciamo far dispiegare al nostro Paese tutte le potenzialità della nostra economia. Andiamo avanti alla slide 3. Ecco, quindi abbiamo visto che sono cresciuti dal lato della domanda i consumi delle famiglie naturalmente sostenuti da tutti i risparmi che sono stati accumulati durante il periodo della pandemia il credito al consumo e gli investimenti fissi lordi che hanno superato di quasi un quinto il livello pre-pandemia quindi quello del 2019. E gli investimenti hanno infatti continuato ad aumentare anche al netto delle costruzioni e pensiamo che per il 2023 le imprese possano espandere ulteriormente e guidato soprattutto da quelle aziende che operano nell'ambito dei servizi. A livello regionale abbiamo visto invece dai colleghi come gli investimenti delle imprese sono diminuiti e la dinamica tuttavia degli investimenti pubblici dovrebbe migliorare negli anni a venire soprattutto beneficiando delle risorse ingenti che verranno assegnati ai soggetti poi attuatori pubblici nell'ambito del PNRR e del fondo del Piano Nazionale per gli investimenti complementari sia il PNRR che il PNC. Ecco, i colleghi hanno già menzionato quali saranno poi gli ambiti di applicazione ed è sostanzialmente una ristrutturazione un ammodernamento sia della rete ferroviaria che delle infrastrutture portuali che sono due degli elementi trainanti dell'economia regionale. Andiamo pure avanti. Se veniamo poi a capire un po' da qui si vede chiaramente il driver rilevante della produzione nazionale è stato naturalmente quello delle esportazioni che continuano ad espandersi soprattutto come dicevamo prima per quanto riguarda la componente dei servizi. Nel 2022 è stato un aumento significativo più maggiore di tutti gli altri paesi dell'area dell'euro in un contesto di crescita del commercio mondiale che ha progressivamente poi allentato tutte quelle strozzature dal lato dell'offerta e i servizi hanno recuperato il livello precedente alla pandemia quindi grazie soprattutto alle entrate turistiche per quanto riguarda il nostro paese e anche le importazioni sono cresciute a un tasso sostenuto sospinte proprio dalla dimensione dalla domanda attivata dagli investimenti fissi fissi lordi e non soltanto questo. Ecco, per la prima volta dal 2012 va menzionato che il saldo di conto corrente ha registrato un disavanzo dell'1,2% del PIL che naturalmente è stato causato dal peggioramento eccezionale della bilancia energetica. Se andiamo alla slide successiva vediamo come a livello regionale le esportazioni hanno avuto un aumento rilevante parliamo a prezzi correnti sono state pari a circa 10,6 miliardi di euro in aumento di un terzo rispetto al 2021 e nel confronto nazionale se guardiamo poi anche tutto il nord-ovest e il paese l'incremento è stato prossimo al 20% quindi la Liguria comunque si è posta in un ambito interessante una parte consistente di tutto questo è legato naturalmente alla dinamica dei prezzi che sono stati in forte rialzo parliamo di una variazione in termini reali che sarebbe stata del 14,3% quindi insomma c'è una componente piuttosto volatile i dati sulle esportazioni ci confermano che siamo di fronte che gli scambi internazionali sono di fronte a una sfida globale molto molto importante abbiamo le pulsioni della deglobalizzazione i temi legati ancora alla pandemia la disruption delle catene di valore globali l'Ucraina naturalmente e anche questa incognita relativa a Taiwan e non dobbiamo quindi dare per scontato che le esportazioni continueranno ad essere il driver e continueranno a crescere in maniera consistente proprio perché siamo di fronte ad uno scenario di grande incertezza che rende oltretutto il nostro lavoro soprattutto per quanto riguarda le analisi macroeconomiche pieno di incertezze cambiano continuamente i valori e quindi diventa molto complesso per noi dare una serie di certezze al paese andiamo avanti con la slide per favore ecco quindi qui abbiamo richiamando queste tensioni di cui chi mi ha preceduto ha avuto modo di spiegare e di far capire non soltanto le percezioni ma anche ciò che viene che sta avvenendo il conflitto in Ucraina tutto quello che sta impattando il rincaro i prezzi naturalmente delle materie prime energetiche l'aumento dell'inflazione è stato in qualche modo straordinario e in larga parte non prevedibile questo è un tema sul cui diciamo c'è stato anche molto dibattito e che è di peso principalmente da un aumento del costo dell'energia ma come diceva il professore è stato un trend che piano piano si è diciamo un misto domande costi che diciamo ha trasformato peraltro quello che pensavamo potesse essere uno shock temporaneo invece un fenomeno molto più intenso un fenomeno molto più persistente quindi abbiamo avuto una crescita dell'8,4% in media d'anno è tantissimo che ha toccato diciamo il 10,6% nei 12 mesi che sono terminati a ottobre a livello regionale abbiamo visto che ha toccato anche diciamo livelli più alti nel confronto nazionale che dipende molto come è stato spiegato prima dal paniere a livello locale nonostante tutte queste incertezze la normalizzazione monetaria è stata rapida seguite io immagino dalla stampa quanto sta avvenendo anche in sede di BCE l'orientamento e quello che si sta cercando di fare è di muoversi in maniera molto determinata a riportare l'inflazione agli obiettivi del 2% con sufficiente rapidità ecco il nostro governatore sia in ambito nazionale che soprattutto nel governing council della BCE che ha ribadito ripetutamente che queste valutazioni devono essere fatte di volta a volta che occorre diciamo avere ben presenti i nuovi dati economici finanziari che occorre avere ben presente l'andamento della componente di fondo e soprattutto l'intensità della trasmissione della politica monetaria all'economia e questo naturalmente per non andare a impattare su temi che sono dell'economia reale che riteniamo debbano essere estremamente presenti quando si interviene con queste misure andiamo pure avanti quindi ecco l'inflazione è una sfida molto importante per l'economia italiana la stiamo monitorando con grandissima attenzione è importante per il nostro paese a affrontare le sfide che sono state richiamate al tempo stesso dobbiamo cogliere in modo sapiente anche le opportunità e l'opportunità diciamo più importante è una delle opportunità ma sicuramente la più importante è quella che nasce dal PNRR che può stimolare proprio dei progressi significativi e rappresenta un raro e nel complesso generale un valido tentativo di definire una visione strategica per il nostro per il nostro paese e anche per questa ragione oltre agli investimenti e gli altri interventi di spesa è cruciale dare attuazione a quell'ambizioso programma di riforme che è da tanto tempo atteso e che è contenuto nell'ambito del PNRR quindi a riguardo vorrei veramente sottolineare il ruolo fondamentale delle amministrazioni locali dei comuni loro sono chiamati a svolgere un lavoro importantissimo di attuazione dei piani degli interventi che sono stati che vengono finanziati dai piani e di cui hanno già parlato ampiamente i miei colleghi andiamo pure avanti se guardiamo un po' diciamo il settore finanziario naturalmente questo inasprimento monetario incide naturalmente sulle dinamiche del credito e il costo dei finanziamenti bancari è in netta risalita come si può vedere e le indagini che conduciamo presso gli intermediari e le imprese ci dicono che a livello nazionale stiamo vedendo una riduzione della domanda e delle condizioni di accesso al credito che sono più restrittive la crescita dei prestiti alle società non finanziarie nell'area dell'euro salita quasi fino al 13% dei tre mesi che sono terminati nell'agosto del 2022 si è recentemente arrestata arrestata anche se in misura meno marcata anche quella parte che riguarda i prestiti alle famiglie nel 2022 come i colleghi hanno sintetizzato i prestiti bancari al settore privato non finanziario dopo un rallentamento iniziale si sono contratti negli ultimi mesi dell'anno abbiamo meno 3,1% alla fine di dicembre e si sono ridotti sia per le imprese piccole ma sia soprattutto per le medio-grandi invece per le famiglie consumatrici continuano a crescere ecco questi andamenti sebbene siano una condizione ahimè necessaria della normalizzazione monetaria tuttavia occorre prestare una grande attenzione a che questa intensità della trasmissione poi non dia luogo ad una frenata eccessiva dei consumi e degli investimenti quindi le banche sono chiamate a svolgere il proprio ruolo e ad essere di supporto all'economia reale della regione e del paese se andiamo ancora avanti ora l'incertezza naturalmente che si presenta davanti a noi e di cui abbiamo parlato richiede tanta prudenza quindi c'è da attendersi che il rallentamento ciclico possa e le condizioni più restrittive il finanziamento possono determinare ancora di più un peggioramento della qualità del credito con delle implicazioni proprio sulle rettifiche di valore che sono al momento ancora basse come vedete anche dalla slide sono proseguite delle operazioni di cessioni di crediti deteriorati realizzata soprattutto attraverso operazioni di cessioni per circa 20 miliardi dal 2016 quando diciamo le transazioni sul mercato di questi finanziamenti hanno acquisito rilevanza sono state effettuate vendita per circa 230 miliardi di valore nominale e nel 2022 è così diminuito il rapporto tra l'ammontare dei crediti deteriorati e il totale dei prestiti questa si tratta per chi è qui presente e lavora nelle banche di una delle operazioni più importanti che siano state attuate nel nostro paese andiamo pure avanti ecco quindi nel suo insieme possiamo dire che il sistema bancario si trova in una situazione di una situazione buona lo scorso anno tutti i principali indicatori di bilancio si sono collocati sui valori sull'aggregato che sono soddisfacenti e in più casi sono anche migliorati l'incidenza dello stock dei crediti deteriorati si è mantenuta stabile su valori modesti ed in linea con la media europea questo è molto importante perché negli anni precedenti non era fatto così e questa è stata una delle tematiche più difficili più spinose che ha creato più contrasto nell'ambito naturalmente di BCE e che diciamo ha visto spesso il nostro sistema bancario preso di mira da altri paesi ecco la risultante diciamo questa stabilità del sistema bancario nazionale è il risultato di un processo lunghissimo che ha visto dieci anni di battaglie di risanamento di bilanci di miglioramento dell'efficienza di rafforzamento proprio del governo societario dei controlli interni e devo dire che abbiamo ottenuto un risultato che molti osservatori anche autorevoli osservatori dubitavano potesse essere raggiunto quindi questo è un elemento importante che ci dobbiamo dire perché è stato un percorso non privo di difficoltà e in non pochi casi proprio l'attuazione di interventi tempestivi ha consentito di gestire delle situazioni di fragilità magari attraverso delle aggregazioni attraverso cambiamenti di assetti proprietari attraverso delle revisioni profonde delle trasformazioni proprio dei modelli di business in altri casi noi ci siamo confrontati con degli episodi di mala gestio e quindi con dei momenti anche molto difficili di percorsi che hanno portato alla risoluzione o alla liquidazione concessione delle attività passività che peraltro hanno interessato soltanto il 3% totale degli attivi del nostro sistema bancario ecco in nessun caso anche nei casi più difficili che abbiamo affrontato è stata messa in discussione la stabilità finanziaria del nostro paese i depositanti sono sempre stati tutelati e laddove è stato necessario si è fatto ricorso a risorse pubbliche il cui ammontare complessivo è comunque stato di gran lunga inferiore rispetto a quello utilizzato in altri paesi dell'eurosistema e non solo e questo non toglie naturalmente che vi siano comunque ancora degli ambiti di fragilità e di vulnerabilità andiamo alla penultima slide e la 11 ecco quello che va detto è che comunque oggi siamo di fronte a delle sfide che riguardano sicuramente l'industria bancaria ma che riguardano tutta l'industria della nostra regione così come del nostro paese che nascono proprio dal rischio climatico gli intermediari devono dotarsi proprio di adeguati modelli che possano dare loro la possibilità di una valutazione tempestiva e molto strutturata dei rischi climatici che possano poi essere incorporate nei loro processi operativi e questi sono degli approcci di cui poi potrà beneficiare in generale diciamo anche il livello informativo che può essere condiviso sia per le imprese che per le banche basandosi su degli standard comuni europei la transizione digitale è la vera rivoluzione a cui stiamo assistendo adesso perché cambia di fatto i modelli di business e cambia naturalmente la modalità con cui i servizi finanziari bancari assicurativi vengono prospettati agli acquirenti l'ultima slide per concludere ecco noi di fronte a queste sfide ci siamo stiamo cambiando anche noi dicevo prima alla direttrice e amica Daniela Palumbo che l'altro giorno ho accolto 130 nuovi ragazzi in Banca d'Italia la metà di questi sono informatici sono analisti di dati ragazze e ragazzi devo dire mi hanno fatto un'impressione splendida e perché noi oggi ci troviamo a dover attraverso uno studio del finte che attraverso una relazione con l'industria che nasce proprio da questi innovatori da questi acceleratori di innovazione che abbiamo creato abbiamo bisogno di dialogare per capire come dobbiamo vigilarli quali norme dobbiamo avere per poterli aiutare a crescere in maniera sostenibile e diciamo nel solco delle buone pratiche ecco io Daniela concluderei qui dicendo che quindi la Banca d'Italia viene posta di nuovo e viene posta costantemente di fronte a nuove sfide che siamo assolutamente ben lieti di cogliere e di portare a compimento grazie allora grazie Alessandra io ringrazio anche gli altri relatori e invito tutti a trasferirvi al piano di sotto dove c'è un piccolo rinfresco per chi avesse piacere siamo ci ritroviamo tutti tutti giù ok grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti